Tra le vicissitudini dovute più che ad altro a decisioni del giudice sportivo che al campo, l'Angelana, squadra Corsara in questo avvio di campionato, sembra al momento l'alternativa più credibile alla capolista Fulgence. E la candidatura è presto rilanciata a minuto 7, discesa sulla destra del terzino Pausselli, tocco ravvicinato di confessore e palla in gol. Passano tre minuti ed in seguito ad un corner Bocci di testa sfiora il raddoppio. E dal 14esimo discesa stavolta del terzino sinistro Bolletta, palla tagliata per Colombi che trova un super Cherubini sulla sua strada. Per lo Spoleto ancora in fase di apprendistato in eccellenza, questa Angelana è un tutor davvero tosto. Schierata da Cotroneo con Battistelli tre pali, Poselli Bocci, Pelillo e Bolletta in difesa, Vitaloni, Gabrielli e Bartolini in mezzo con Ravanelli a far da sostegno sulla tre quarti a confessori e Colombi, l'Angelana è padrone assoluto del campo in questo avvio. E confessore al 22esimo con quest'azione personale ribadisce il concetto. Ancora bravo Cherubini. E per quanto il tecnico Spolettino Restani, che sostituisce in panchina l'indisposto Raggi, schieri un tridente d'attacco di tutto rispetto con Sabatini, Gesuele e Cola, a far vibrare il pubblico sono ancora gli avanti giallorossi. Vedere come al 32esimo confessore si libera di Mechetti e serve Vitaloni. Cherubini salva di piede sul diagonale della mezzala destra e poi il trequartista Ravanelli trova un avversario sul suo tentativo in acrobazia. Completano l'11 Spolettino il portiere Cherubini con i compagni di reparto Colarieti, Mechetti, Pazzogni e Monesi e di centrocampisti Giustini, Bengale e Paci. E l'occasione arriva anche per gli ospiti al 36esimo. Bravo Gesuele ad intercettare un irrato disimpegno locale, ma Battistelli in uscita gli nega la gioia della rete. Il primo tempo si chiude tra le poteste dei locali per un presunto colpo. Palla lontana di Mechetti su Colombi. Nei pannacci di Perugia nel primo assistente Spena ritengono di intervenire. E da Matita Blu invece nell'ora di Colarieti in impostazione ad avvio di presa. Ravanelli raccoglie l'involontario suggerimento e serve Colombi, per cui è un gioco da ragazzi siglare di sinistro nel 2-0. È il quarto del secondo tempo. Al sesto poi Colombi si traveste da assist man, ma il riflesso di Bocci sotto porta è quello rude di un difensore centrale. In una ripresa iniziata sulla falsariga del primo tempo, lo Spoleto a questo giro non vuole stare a guardare. E quando la retroguardia giallorossa se lo dimentica al centro dell'area, Gesuele la castiga così, riportando in partita i suoi all'ottavo. Iniziano i cambi, nell'Angelana esce Confessore Perluparini. Nello Spoleto, Monesi e Sabatini lasciano il posto a Colarelli e Solfaroli, con lo Spoleto che passa tre dietro, quattro in mezzo, ed in avanti proprio Solfaroli a sostegno di Gesuele e Cola. Ma al ventesimo un'altra distrazione della retroguardia, ospite buon per loro che Luparini tira in bocca a Cherubini. Restani prova a giocarsi gli ultimi minuti con l'insordimento della fantasia Tomassoni. La risposta di Cotroneo è l'arretramento sulla trequarte di Colombi dopo l'ingresso in campo di Logelfo. Ed è proprio Colombi, insieme a Luparini, a condurre il contropiede al 34esimo, che potrebbe chiudere la partita. I due però, sulla sua strada, trovano ancora un Cherubini in forma ottimale. In un finale in cui la lucidità naturalmente inizia a scemare, lo Spoleto protesta per una presunta trattenuta su Gesuele al 37esimo. Pannanci indica di continuare a correre e dall'ultimo minuto di recupero, in mischia il neontrato Mingaroni conclude depulmente. Battistelli para con tutte le agevolezze. Meritata senza dubbio la vittoria dell'Angelana, che ha creato almeno il doppio delle palle golle rispetto all'avversario, specie nel primo tempo. Buona la reazione nella ripresa dello Spoleto, per cui però al momento l'Angelana è sembrata un avversario di un altro rango. Col tecnico dell'Angelana contro Neo, credo che è nel primo tempo un allenatore, se sogna la prestazione della propria squadra, è quella che avete fatto voi. Matita blu, pochi gol segnati con tutte quelle occasioni. Secondo tempo siete stati bravi a soffrire nel ritorno di uno Spoleto, soffrire poi tra virgolette, perché poi alla fine se si vanno a sommare le palle golle, anche nel secondo tempo, comunque le occasioni più grandi in ripartenza ce le avete avuto voi. Vittoria legittima, senza ombra di dubbio, è riconosciuto pure del frate dello Spoleto, e a un passante c'è pure l'aggancio al primo posto oggi. Ma noi siamo felicissimi perché io avevo chiesto ai ragazzi, prima della partita, di fare una grandissima prestazione dal punto di vista tecnico. Questa è una squadra che merita di giocare a calcio, lo sa fare bene, mi arrabbio nel momento in cui non lo fanno, quindi posso essere più che soddisfatto, perché ragazzi uno per uno, che è entrato prima, dopo, tutti quanti hanno giocato a calcio. È vero che affrontavamo una squadra di tutto rispetto, una squadra forte, che ha degli uomini importanti per questa categoria, però credo che noi da questo punto di vista stiamo pagando un po', tra virgolette lo scotto di essere una neopromossa, anche se poi sulla carta questa è una squadra che è formata da giocatori che in questa categoria la fanno da diverso tempo, quindi noi dobbiamo assolutamente continuare a lavorare, dobbiamo mettere a posto quello che c'è da mettere a posto e dobbiamo tirar fuori quell'orgoglio che ci ha sempre contraddistinto, anche la scorsa stagione.